Ciao a tutti, ciao a tutti e tutte e bentrovati in una nuova puntata del podcast Italiano Bello. Io sono Irene e se state guardando questo video su YouTube vedete dietro di me la parete del mio ufficio, un piccolo, molto piccolo ufficio in casa e vedete un po' di scaffali e dall'altra parte vedete i nomi di alcuni dei miei studenti, infatti recentemente, cioè poco tempo fa, ho aperto le iscrizioni per il mio corso di latino, non di italiano ma di latino e ho voluto scrivere i nomi dei nuovi studenti per ricordarmeli e per averli sotto gli occhi, infatti anche se con internet i corsi sono ormai spesso a distanza e è difficile vedere in faccia i miei studenti, voglio comunque in qualche modo portarli a casa mia. Ma veniamo all'argomento dell'episodio di oggi che sono i lavori. Adesso vi spiego meglio come mi è venuta l'idea di fare questo episodio. Mi è venuta perché, come forse sentite, ogni tanto si sentono dei rumori. Perché? Perché nella casa, nel condominio vicino al mio, stanno facendo dei lavori. Ovviamente questo è molto fastidioso per chi deve registrare dei podcast, ma spero che il potere di questo nuovo microfono mi aiuti e che possiate comunque sentire bene. Però, siccome è probabile che ogni tanto sentirete alcuni rumori esterni, ho deciso di dedicare questo episodio al lessico, cioè alle parole italiane o ad alcune parole italiane che si usano per descrivere i lavori. I lavori che si fanno, per esempio, nelle case, per ripararle se c'è qualcosa di rotto, ma anche per renderle più nuove o più belle. Quindi oggi parliamo di lavori e vi dirò un po' di parole ed espressioni utili. Prima di cominciare, come sempre, ricordo che pronti partenza via è il mio corso gratuito dove vi do un po' di informazioni e opinioni utili per migliorare il vostro studio dell'italiano. Il corso è sempre disponibile, è completamente gratuito e per iscrivervi dovete soltanto cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo video o di questo podcast. Vi aspetto quindi. Ma ora cominciamo veramente. Allora, parliamo di lavori, appunto. Lavori soprattutto alle case, agli appartamenti. Prima di tutto si dice fare dei lavori. Per esempio, vi ho detto che nella casa vicino alla mia stanno facendo dei lavori. Che cosa significa? Che per un periodo di tempo, spero non troppo lungo, tutti i giorni verranno a fare dei lavori. E chi fa i lavori? Si chiamano con un termine generico, cioè con una parola che si può usare per molti, si chiamano operai. Operai sono le persone che si occupano di fare i lavori. Un operaio, molti operai. Gli operai possono lavorare per sistemare delle case, ma anche delle strade, degli edifici pubblici. È un termine molto generico. Poi ci sono altri termini più specifici. Per esempio c'è il muratore. La parola muratore viene da muro e i muratori sono letteralmente quegli operai che costruiscono i muri. Poi ci sono per esempio gli imbianchini. Un imbianchino è quello che dipinge, vernicia, colora i muri di bianco. Per questo si chiamano imbianchini, anche se non sempre i muri sono bianchi. Poi c'è la persona che si occupa di riparare, aggiustare tutte quelle cose che abbiamo in casa legate all'acqua. Per esempio, se si rompe il lavello della cucina, che è dove laviamo i piatti, o se si rompe il lavandino del bagno, o se si rompe l'impianto dell'acqua, chiamiamo l'idraulico. L'idraulico si occupa dei problemi legati all'acqua. Infatti questa parola viene dal greco, dove udor e udros, quindi idraulico, significa acqua. Quindi abbiamo parlato di operai, di muratori, di imbianchini e di idraulici e adesso vorrei invece parlare di alcuni strumenti o macchinari, cioè grosse macchine, che a volte si usano per i lavori, soprattutto i lavori grandi, come i lavori alle case o alle strade. Allora, un genere di macchinario, uno dei più grandi, di una delle più grandi macchine, forse, è la gru. Questa è una parola interessante, gru. Prima vi spiego la sua origine. La parola gru significa, prima di tutto, un animale. La gru è un animale, un uccello. Potete cercare, se volete, un'immagine su internet per capire meglio di cosa sto parlando. Comunque la gru è un uccello che ha delle gambe, cioè delle zampe molto lunghe, anche un becco molto lungo e diciamo che la sua caratteristica principale è di essere appunto lungo, di essere alto. Può essere alta circa 120 centimetri, cioè un metro e venti centimetri, quindi abbastanza alta. Le gru non si trovano in Italia, credo, non le ho mai viste, abitano nell'Italia del nord, nell'Europa del nord e anche in Asia. Comunque, volevo farvi capire che cos'è una gru, perché gru in italiano significa non solo questo animale, questo uccello molto alto, ma anche un macchinario per costruzione. Cos'è la gru? Forse lo avrai capito. È una macchina con un collo molto lungo che serve per prendere degli oggetti, delle cose molto pesanti e sollevarli, cioè tirarli su. Si chiama gru proprio perché il suo collo lungo ricorda il collo della gru, dell'animale gru, quindi è una parola interessante. Un altro tipo di macchina molto grande è l'escavatore. L'escavatore scava il terreno, scava la terra. Poi un rumore che forse sentirete in questo episodio è quello del trapano. Il trapano è un oggetto molto più piccolo di una gru o di un escavatore, che si può anche trovare comunemente nelle case e serve per fare buchi, per fare i buchi nel muro. Se dobbiamo per esempio appendere un quadro molto pesante o se dobbiamo, se dobbiamo fissare un mobile al muro per essere sicuri che non cada, facciamo un buco nel muro con un trapano. L'ultimo attrezzo, strumento di cui vi voglio parlare è il martello. Anche questo è uno strumento piccolo che si trova quasi in tutte le case e serve per battere toc 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 sui chiodi per fissarli nel muro. Quindi se dobbiamo fare un buco grande usiamo il trapano. Se invece è sufficiente, cioè basta un buco piccolo, possiamo prendere un chiodo, metterlo sulla parete, sul muro e battere con il martello in modo da far entrare il chiodo nel muro e poi su quel chiodo potremo attaccare un bel quadro o quello che vogliamo. Quindi ringraziamo gli operai che lavorano nella casa vicina alla mia per avermi dato l'ispirazione per questa puntata. Sarei molto contenta di leggere dei commenti, se state guardando su YouTube, in cui mi scrivete se conoscete altre parole o espressioni italiane legate ai lavori, al fare i lavori. Io vi saluto e vi do appuntamento tra due sabati, quindi non il prossimo sabato ma quello dopo, con un nuovo episodio di Italiano Bello.